Cerimonia di premiazione questa mattina a Roseto degli Abruzzi, dedicata alle sportive e gli sportivi rosetani, che si sono particolarmente distinti nell'ultimo anno. Presente la campionessa di ciclismo Marta Bastianelli, il pilota motociclistico Stefano Neba, il gestista Edo Di Emidio, questi ultimi già affermati, ma presenti anche alcuni giovani campioni come il Karateca Ciavardoni, la nuotatrice Giulia Piovani, fresca di convocazioni nazionale. Menzione anche per Francesca Marini, convocata ai giochi mondiali Special Olympics 3 contro 3, che si terranno a Berlino nel giugno 2023. Assente l'arbitro di Serie A Ermanno Feliciani, che ieri ha diretto Fiorentina Monza, mentre è momento di commozione quando si è ricordato la figura storica del compianto Peppe Celommi. Sì, Rosetto Città dello Sport non poteva che avere un momento per celebrare gli sportivi che con grande impegno, fatica, disciplina, ottengono grandi risultati. Questo è il primo evento che dedichiamo a loro, doveva essere fatto nel 2022, poi per una questione molto gentile da parte del sindaco l'abbiamo spostata adesso a gennaio. Quindi sport minori non ce ne sono. Lo sport è sport, tutto con lo stesso valore, che è un valore di socialità, di vita sana, di aggregazione e di anche formazione. Assessore, qui a Rosetto si parla ovviamente troppo spesso di basket, ma karate e nuoto nell'ultimo periodo hanno dato tanto alla città. Sì, adesso nella premiazione vedremo che è vero che Rosetto è città del basket, quindi con una storia gloriosa, ma in tantissime discipline abbiamo veramente delle eccellenze e questo momento è stato fatto appunto anche per far partecipare la cittadinanza a questi risultati, perché magari tanti cittadini non sanno che abbiamo dei grandissimi campioni, nuoto, motociclismo, ciclismo, abbiamo tantissime personalità direi.